Sono andato finalmente a fare l'F-104 anch'io e sono andato a Jever, a fare l'F-100 Jever, era una base dell'Ost Friesland, sulla costa del nord della Germania, davanti alle isole Frisone e noi eravamo un po' i ritardatari, insomma, perché siamo arrivati quasi un anno dopo. I primi corsi li hanno fatti in un'altra base a Norvenich, invece. Il mio era il primo corso, si faceva lì a Jever e sono andato su con mia moglie, nel frattempo mi ero sposato, sono andati su con la moglie a tappe in macchina, era abbastanza lontano e mi ricordo abbiamo dormito a Stoccarda in un albergo e in questo albergo eravamo gli unici italiani e quando siamo arrivati, ah, dice, voi cercate lavoro, abbiamo il posto per tutti e due, abbiamo un posto per un aiuto cuoco e per una cameriera. E io e mia moglie abbiamo ringraziato moltissimo, ho già un altro lavoro, io sto andando avanti, però insomma, per dire, no? Siamo arrivati a Jever, a Jever c'è stato questo, ho trovato altri colleghi, insomma, c'è stato questo corso lunghissimo, il comandante e la base era uno che aveva fatto la guerra, uno sfregiato che poi è diventato capo dell'aeronautica tedesca, Steinhof, è famoso, è famoso. Ecco, e allora mi sono trovato in mezzo a questa gente, c'erano degli istruttori italiani, un po' di tutta la Nato, qualcuno italiano, eccetera, olandesi, tedeschi, un bel ambiente. L'aeroprano era, non era il TF-104, che ancora non c'era, era l'F-104F, F-104F, che era biposto, biposto, leggerissimo, non aveva il radar, non aveva nulla dentro, non aveva il TAC, nessun apparato elettronico, aveva un VOR e basta, era leggerissimo, il motore però era buono e, insomma, finalmente, dopo un mese, sono riuscito a fare il primo di esami, è stato lungo quel corso, ho fatto il primo volo, molto bello, e l'istruttore era Nino Stura, non so se l'avete conosciuto, un istruttore italiano, ex quarto Sturmo, che era stato anche nostro istruttore a Mendola, Nino, un bravissimo pilota, un ragazzo molto bravo, mi ha avvertito, guarda, dice che il primo volo qui nessuno riesce a tirar dentro il carrello, perché era così veloce l'ecollo in questo TF che uno si concentrava sulle varie cose e il carrello restava fuori, perché se si superava una certa velocità, il carrello non rientrava più, perché rientrava, diciamo, rimaneva con lo schiaffo dell'aria, perché si richiudeva in avanti così, sul TF, sul Gino, era diverso. E allora io invece, bravo, mi ha detto Nino Stura, perché io sono riuscito a tirar dentro il carrello, ah, dice, tu ci sei riuscito? Sì, però mi sono concentrato solo su quello, mi ricordo, il decollo così rapido, però era ancora freddino, era in luglio, mi ricordo, era una giornata, erano giornate di pioggia, e insomma, meraviglioso quest'aeroplano. Sì, sono riuscito a rientrare il carrello, ma non ho fatto niente altro, non ho visto la V1, la V2, tutte le cose che mi ero predisposto, segnato nel briefing, eccetera. Però, dice, no, no, bene, e abbiamo fatto il primo volo, gli atterraggi, eccetera, era previsto fare cinque o sei voli in tutto, non di più, poi si passava direttamente sul G. Poi al secondo volo invece era previsto un decollo rapido, una salita col postbrunciatore fino a 37 mila piedi, in un minuto ci arrivava a 37 mila piedi, ne tirava su e si andava su, anzi bisogna stare attenti a non diventare supersonici in salita, perché era veramente molto più leggero del G. Poi era prevista un'accelerazione fino a Mach 1,4, anche quella l'ha raggiunta subito, poi era previsto togliere il postbrunciatore, tra l'altro il carburante è poco, perché in volo gli duravano 40 minuti, senza tanti. Nel frattempo, via il postbrunciatore, era previsto di fare uno zoom per perdere velocità, io mi ricordo che ho fatto uno zoom da 1,4 senza motore, dopo ho detto al motore, ho tirato un po' su e dovevo arrivare a 45 mila piedi, sono arrivato a 47-48, ho dovuto rovesciarlo, mi ricordo, per fermare, perché era veramente una bestia, no? Comunque, poi, subsonico, discesa di nuovo a 37 mila piedi, delle virate con i flap, perché senza flap non virava, tremava, raggiungeva subito l'angolo d'attacco massimo, con i flap di manovra si doveva fare queste virate. Io inizio queste virate e Nino Stura mi dice, dai, flap, manovra, facciamo queste virate, tiro fuori il flap e l'aereo mi si butta a destra, così, mi si rovescia e incomincia a girare, proprio così a destra, puntando il muso giù, no? E allora Nino dice, prova il parafreno, ho tirato il parafreno, era lì davanti, ho tirato il parafreno, si è fermato un attimo l'aeroplano, però ho sentito lo strappo, il parafreno è andato via, ovviamente. Bail out, fuori, no? Dice, lanciati, lanciamoci, bail out. Però sul TF si doveva lanciare, sul F si doveva lanciare prima quello del posto di dietro, perché altrimenti il pacco dei razzi di quello che stava davanti bruciava quello che stava dietro, no? Non era protetto, no? E dopo il Belao, bam, ho sentito la botta sua, solo che con la botta sua, l'aeroplano che ormai non aveva tanto carburante dopo l'accelerazione supersonica, eccetera, ed era molto lungo, la reazione del lancio gli ha fatto abbassare il muso ed è entrato in tumbling. Oltre a girare, ha cominciato anche a fare dei girovesci, diciamo così, rotolando anche rovescio, e a quel punto lì io non riuscivo più a lanciarmi. Non c'è stato verso, ho provato di tutto e non ci riuscivo. Avevo la leva, perché? Perché si erano con queste botte, si erano allentate questo tumbling, si erano allentate un po' le cinghie. Io stavo un po' appeso, appeso alle cinghie delle spalle, si era allentata un po' questa cinghia qui, i piedi che erano attaccati con gli speroni, diciamo, al seggiolino galleggiavano per aria, il fatto che oltre al tumbling girasse anche, ma aveva schiacciato verso un angolo, avevo la maniglia del tettuccio lì davanti, ci arrivavo benissimo a prenderla. Dico, questa potrei prenderla, non mi serve. Quella invece per lanciarmi non ci arrivavo, la sfioravo appena, la sfioravo, la sfioravo, ma non riuscivo. Poi sono entrato nelle nubi, c'erano le nubi 20.000 piedi e mi ricordo che erano a 600 piedi in salita. Dico, adesso è finita qui, vedo il muso, il muso che si rompe, si spacca, mi passa davanti e va via pure il muso. Poi un rumore di ferraglia, si è sbancato il motore e dico, adesso è qui, adesso muoio. È entrato nelle nubi, non ho più idea né di quota né di niente, tutto impazzito, non c'era più il muso, non c'era più il piton, non c'era più niente. Dico, vabbè, adesso mi schiaccio, tra un po' mi schiaccio per terra, chissà cosa si sente, ma non avevo paura. Però ero, la parola, incazzato nero, molto arrabbiato, io dovrei morire con lui, ma come, dico, appena cominciato, eccetera. Poi mi è venuta in mente Paola, perché quella mattina mia moglie si chiama Paola, l'avevo lasciata in albergo per andare a volare, e lei non parlava il tedesco. Io, da austro-ungarico come ero, parlavo anche il tedesco, quindi facevo tutto io. E allora mi ricordo che ho pensato, adesso muovi, adesso mi schiaccio per terra, chissà come si sente, e mi è venuta la sua immagine, così come mi aveva salutato, una maglietta verde, mi ricordo, e una gonna blu. Mi è venuta la sua immagine, dico, adesso come fa questa che non sa il tedesco? Io tra un po' mi schiaccio, questa non sa il tedesco. Questi pensieri, mentre tutto rotolava e sbatteva, no? Allora io dico, vabbè, mi sono di nuovo ribellato, sono riuscito con fatica a alzare una mano, nonostante i G negativi, e l'ho infilata dietro il casco, fra il casco e il montante, e con tutta la forza che avevo ho spinto, ho spinto, ho spinto, cercando di raggiungere la leva, sono riuscito a sfiorare con le dita la leva di lancio, ho spinto ancora, devo aver urlato proprio, ho spinto ancora e sono riuscito a passarci dentro la leva, era fra le gambe un dito, questo dito qua con l'anello, ho tirato e sono partito proprio, sono riuscito a infilare con un dito, sono riuscito a tirare questa leva, che non è un po' duretta, insomma, di fatto si è rotto il dito, si è rotto il dito, vabbè comunque, però sono riuscito a tirarla, sono partito e proprio ho ancora la sensazione, ho visto allontanarsi il cruscotto con gli strumenti dentro, l'ho visto diventare più piccolo, e poi ho cominciato a girare, a capovolgermi, a girare così e vedevo luce, luce verso l'anello, mi ricordo luce e ombra, luce e ombra, luce e ombra perché rotolavo, e a un certo punto sono uscito dalle nubi, no, ho sentito lo strappo del seggiolino, c'era un cavo che collegava al seggiolino, e ho sentito che mi ero liberato dal seggiolino, e cadevo con il survival kit, mi era rimasto legato, e stavo cadendo in questa posizione qui praticamente, e fra le gambe sono uscito dalle nubi, e fra le gambe ho visto un tetto rosso, però pioveva, quindi le nubi erano a 600 piedi, a 600 piedi ho visto questo tetto rosso che si ingrandiva veloce fra le mie gambe, dico porca miseria, dico non si è aperto il paracadute, e allora con il braccio destro, ho tirato la maniglia, ho alzato, ho tirato la maniglia, il tetto si è fermato, mi sono sentito come risucchiare, e ho fatto due o tre oscillazioni, e ho cercato, mi sembrava di cadere in un canale, lì era tutta una zona di canale, dico adesso pure nel canale cado, no? e ho provato a tirare il battellino, a sinistra non ci sono riuscito perché il braccio non si è mosso, col braccio destro, quello che mi ha salvato perché ho tirato la maniglia, ho tirato il battellino a sinistra, stavo facendo delle oscillazioni, proprio sì, il paracadute si è aperto vicinissimo a terra, ho fatto tre o quattro oscillazioni così, e sono caduto di piatto proprio nel canale, che non era un canale, ma era un'autostrada bagnata, di pioggia, così come ero col survival kit ancora attaccato, e ho sbattuto proprio di piatto, proprio sull'asfalto, io mi ricordo di aver sentito rimbalzo, il rumore della botta, e aver sentito rimbalzo, e subito dopo una macchina ha frenato 5-6 metri, era una Mercedes nera, si è fermato, io sono rimasto così sulla strada, non ci vedevo bene, però ho visto il fumo dell'aeroplano 500 metri più in là, Nino Stura si è lanciato, ma non si era fatto niente, non si era fatto un graffio lui, perché era ancora in condizioni buone l'aereo, e si è svegliato, mi ha detto poi come è venuto a trovare, si è svegliato, si è addormentato per terra, è svenuto, e si è svegliato che c'era una mucca che gli leccava la faccia, in Ostfriesland, le mucche sono famose, c'era la barzelletta, dicevano i tedeschi, quando guidi vai verso l'Ostfriesland, quando vedi che le mucche cominciano a essere più belle delle ragazze, vuol dire che stai arrivando, no? Perché si vantano di avere le mucche più belle del mondo, e comunque io ero lì, disteso, guardo, non riesco a vederli, però vedo questi qui che si avvicinano, e allora vengono vicino per prendermi, e io mi ricordo di averli detto, per favore, non toccatemi, perché avevo visto che il braccio, volevo sganciare qui un po' la roba, paracadute e battellino, però non sono riuscito a alzare le braccia, nemmeno quella che prima funzionava, che mi ha saluto, e dico, allora qui abbiamo un problema di schiena, se non si alzano le braccia, no? Poi guardo avanti, c'è la gamba sinistra che andava avanti dritto, quella gamba destra che andava avanti, e in fondo, poi si piegava a 90 gradi a destra, frattura scomposta, era partita a destra. Allora a questi qui ho detto, per favore, non toccatemi, chiamate un'ambulanza, chiamate il medico in tedesco, ha avuto sta fortuna, no? E poi un'altra cosa buffa, e da una casa lì vicino, un casolare di campagna, dall'altra parte della strada, e mi ricordo che è uscita una ragazza, mi ha guardato e ha fatto un urlo, ha gridato, no? E allora, ed è uscita poi, è entrata, è tornata a uscire con un bicchiere d'acqua, e uno specchio. Mi ha fatto bere il bicchiere d'acqua, mi ha fatto bere l'acqua, disteso, tenendomi un po' sulla testa, mentre gli altri stavano a guardare, questa è la macchina, dopo mi ha messo le mani, lo specchio davanti, e ho capito l'urlo, perché avevo perso il casco, lo schiaffo dell'aria, il lanciato transonico, ma era come se avessi preso un pugno enorme sulla faccia, ero tutto nero, nero, tutta la faccia nera, e gli occhi rossi, perché i G negativi mi hanno fatto uscire il sangue, no? E tutte le due corne rosse, sembravo il diavolo, veramente, no? Con i cappelli così, no? E questo ha fatto l'urlo, e allora, questa ho detto anche a lei, mi ricordavo il numero di mia moglie, era il numero di telefono di questo piccolo albergo dove abitavamo, era 811, e ho chiesto a questa ragazza, Witte anrufenzi meine Frau, in tedesco, insomma, chiamo mia moglie al numero 811 di Ewer, e dirle che, dirle che tuo marito, che suo marito, ha avuto un incidente, eccetera, eccetera, però è vivo, e di avvertire la base, no? Di avvertire, eccetera, le ho detto più o meno di dirgli dov'ero, dov'ero, e dille anche che ho un piede, e habe ein Fuß kaputt, ho un piede kaputt, rotto, no? Volevo in tedesco, mia moglie che non sa il tedesco, di tutto sto discorso ha capito solo, io e man tuo marito kaputt, e allora è andata alla base, che era lì vicino, dice mio marito, ha fatto telefonare, si è lanciato, ma è morto, allora questi dalla base, l'hanno presa, l'hanno portata in macchina, c'è nel frattempo arrivata l'ambulanza, e l'ambulanza, vi ricordo ancora, particolare, sono arrivati i medici, molto presto, lì vicino c'era un pezzo, un paese che si chiamava, Esel, uno si chiama, però l'ospedale era in un altro punto, vabbè, e comunque questa ambulanza è arrivata, ha visto il piede, ha cercato di adrizzarmelo un po', ma ha sganciato qui, però non sapevano come tenerlo, perché era scomposto, ciondolava il piede, così era la tibiotassica, era partita, tutta l'articolazione, e allora sono andati nella casa, vicino alla casa di questa ragazza, c'era la grondaia, immagini che mi ricordo ancora, la grondaia che veniva giù, e in fondo, nella parte finale, c'era solo metà grondaia, era tagliata a metà, e scolava l'acqua, e questi sono andati lì, questa metà l'hanno tolta, me l'hanno portata lì, mi hanno apportato dentro la gamba, e con il paracadute, le corde del paracadute, mi hanno fissato il piede, e mi hanno portato in ospedale, e adesso, vabbè, non mi ricordo il paese, Leer si chiamava, Leer, Leer vuol dire vuoto in tedesco, il paese si chiama Leer, Kreiskrankenhaus Leer, l'ospedale circoscrizionale di Leer, e lì mi hanno portato dentro, è venuto subito il primario, che era un certo dottor Dellinger, me lo ricordo ancora, il quale mi ha guardato, e dice, e qui bisogna tagliare questo piede, ha detto, gli spazio non si doi ci ha, e dice, io, no, non ti preoccupare, dice, io ho fatto il medico in Russia, sai quanti ne ho tagliati, no? E dico, vabbè, poi sono svenuto, e non mi ricordo più niente, e per tre giorni mantenuto in coma, in coma sedato. Quando mi sono svegliato, c'era lì Paola davanti a me, che era rimasta sempre lì, ho ancora la fotografia, e però prima di svegliarmi, ero convinto di, non era ancora sveglio del tutto da questo coma, però ero convinto di essere morto, di essere, perché sentivo una musica, un canto, dico, allora, veramente sono morto, no? E allora, guardo bene, apro gli occhi, finalmente, mia moglie stava lì, e c'era tutta una scuola, c'era la classe, una classe elementare, con la maestra, col mazzo di fiori lì fuori, che cantavano qualcosa, in mio onore. poi mi ha fatto vedere il giornale, Paola l'ha preso, perché sul giornale c'era scritto che avevo salvato la scuola, non è vero assolutamente, io ero dentro le nuove, proprio, manco ci pensavo alle scuole, però era uscito così, allora questi erano noti, con la maestra a ringraziare, e a portare i fiori, e queste, io dico, allora sono in paradiso, ci sono gli angeli, poi ho visto Paola, vabbè, sono tornato in me, lì ci sono rimasto tre mesi, ci sono rimasto tre mesi, completamente ingessato, il piede non me l'ha tagliato, me l'hanno salvato, e ingessato, avevo fuori dal gesso, solo la gamba sinistra, tutta la destra era ingessata, perché avevo anche la schiena rotta, ed ero ingessato, il gesso continuava qui, mi arrivava, mi rimaneva fuori, il braccio destro, sinistra è ingessata anche quello, e qui per farmi respirare, mi ricordo, mi hanno fatto un buco ovale, così in modo che lo stomaco, e sono stato tre mesi così, poi sono venuti a prendermi con l'aereo, e con il C-119, l'ho fatto anch'io poi il C-119, il C-119 e mi hanno portato in Italia, e lì è cominciata l'altra avventura, ma non è stata gradevole, sono stato un anno e mezzo a fare operazioni, allora c'era ancora l'Empas, cioè non c'era l'assistenza diretta, e a chi non era in servizio, non interessava, forse per causa di servizio o meno, portavano via un terzo dello stipendio, e toglievano tutte le indennità subito, portato in ospedale, c'era nessuno che lo pagava all'ospedale, l'ospedale una settimana voleva i soldi, e io tiravo fuori i soldi, e alla fine i soldi sono finiti, e allora c'era anche mia moglie in un'altra stanza, perché fra l'altro era incinta, non in quel periodo, della nostra prima figlia, e allora dico, vabbè riportate a casa me, con quegli ultimi soldi tenete dentro lei, e allora i compagni del gruppo, hanno fatto la colletta, fondo gruppo, e mi hanno trovato i soldi, per tenermi in ospedale, ancora, fino a quando è stato necessario, insomma, un gruppo di volo, bello no? un anno e mezzo, e sono ritornato a volare dopo un anno e mezzo, sono stato altri 5-6 mesi lì a Istrana, e poi sono tornato al mio gruppo, il ventunesimo gruppo, con l'F-104, siamo trasferiti a Novara, e ho continuato a volare con l'F-104, questa è la storia, e ho continuato a volare con l'F-104,